Il governo continua a ripetere sempre lo stesso gingo, l'asset banca è fallita, sarebbe fallita in pochi mesi, ma cosa significa fallimento di una banca? La banca fallisce quando non ha più liquidità, quando ha delle esposizioni tali debitorie verso fornitori e quindi la banca non è più in grado di saldare i propri debiti. L'asset banca era la banca più liquida della Repubblica di San Marino, pagava regolarmente tutti i suoi fornitori, quindi sono illazioni che non trovano riscontro nelle segnalazioni trimestrali che abbiamo sempre fatto a banca centrale. Tra l'altro tutti i requisiti minimi patrimoniali asset banca li aveva, smettetevela di dire cose che non potete neanche provare perché le carte cantano, andate a valutare, basta, perché veramente non si riesce a capire perché continuate a dire delle cose che sono completamente false, non si riesce a capire, dimostratelo, basta continuare a dire che è il sottoscritto gestito male perché fate brutta figura, ma non sapete le cose. Come si fa ad accettare critiche dopo 30 anni di lavoro e contro un governo che ripete le parole di banca centrale? Ma la relazione ispettiva che tra l'altro non ci hanno consegnato, un commissariamento detto da banca centrale, c'è la controparte e voi ascoltate solo la banca centrale e se la banca centrale avesse sbagliato? Ripetete sempre la stessa voce, perché non fate un confronto con le società di revisione? Una banca tecnicamente fallita non sapete neanche che cos'è, non sapete quali sono le procedure irrecuperabili, la terminologia è inesatta. Cosa vuol dire una procedure irrecuperabile che non si riuscivano a fare le chiusure della banca? Non sapete, leggete, aggiornatevi un attimo, non c'è nessun consulente economico che vi possa ribadire questi concetti. Io dico sempre, ma chi controlla il controllore? Avete la vostra politica economica basata su quello che dice banca centrale? E così siete arrivati solo a questo punto? Vediamoci pubblicamente, facciamo un confronto io con Venturini Mario, io con Celli, io con Zafferani, facciamolo un confronto io contro tutto il CCR, facciamolo questo confronto. Oh, si parla di banche, è il mio settore, l'ho studiato, ci siamo laureati in economia bancaria e voi volete parlare di banche che non sapete neanche un minimo di funzionamento? Ma dai, è venita una serata pubblica di fronte alla cittadinanza? Incominciamo a parlare di tutte le cose che ci fate? Dai che ora, forza ragazzi, venite fuori, se siete così bravi, venite fuori, forza!